Ti piacerebbe disegnare un uomo super dettagliato al centro della bandiera dell'Italia? Allora, solo due paesi al mondo lo hanno fatto. Uno è uno stato minuscolo a sud del Messico, che si chiama Belize, e ha disegnato questi due falegnami sulla bandiera, perché il Belize fu creato dagli inglesi, visto che gli serviva il legno delle foreste centroamericane. L'altro paese invece è Malta, che però forse un po' si vergognava di aver disegnato San Giorgio sulla sua bandiera, e quindi l'ha fatto talmente piccolo che serve una lente di ingrandimento per vederlo. Comunque, sta cosa di mettere una persona, oppure parti di persona, sulla bandiera, sembra essere tipica delle isole. Infatti anche la Sicilia, la Sardegna, l'isola di Men, la Polinesia, la Corsica, hanno questo disegno. Quindi?